Comune di Silvi e Unica Beach si parla ovviamente dell'estate 2016 e allora quali sono le novità? La novità è che la nostra offerta sia per i nostri residenti che per i turisti si arricchisce di una nuova qualità che è quella di Unica Beach, la spiaggia per gli amici a quattro zampe. Noi in verità avevamo già la spiaggia per i cani che era nata nel 2011 però non eravamo mai riusciti a trovare anche un'offerta così importante. Chi parteciperà a questo progetto? Parteciperà all'associazione Unica Beach con la dottoressa Giussi che è già molto avanti come esperienza sotto questo punto di vista soprattutto per quanto riguarda la pet therapy che sta portando avanti un progetto pilota qua in Abruzzo. Quali saranno gli stabilimenti che metteranno a disposizione l'apertura per gli amici a quattro zampe? Ma sul nostro territorio già sono tanti gli stabilimenti che danno questa possibilità. La parte di spiaggia riservata a Unica Beach si trova nella parte sud di Silville che una volta veniva quasi considerato una zona dormitoria oppure una zona poco raccomandabile e oggi sta diventando un fiore all'occhiello per la nostra città. L'obiettivo è dimostrare che non solo gli animali non sono pericolosi ma addirittura sono utili sia per il benessere umano, per i bambini oltre che diversamente abili. Quindi la capacità di apportare del beneficio oltre che dimostrare ulteriormente che non rappresentano un rischio per la salute, anzi li aiutano le persone che hanno problemi di salute. Grazie. Grazie. Grazie.